Un comizio per spiegare ai cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto quello che è accaduto, ma anche per trovare nuove energie per la prossima battaglia elettorale. Lo ha proposto ieri sera Maria Teresa Collica, affiancata sul palco di Piazza San Sebastiano dal sindaco di Messina Renato Accorinti. Era necessario un confronto aperto per raccontare le ultime vicende del Consiglio Comunale, ritrovare la grinta per i prossimi giorni in cui la vedranno, confrontarsi con altri candidati e nuovi schieramenti politici. Un comizio per spiegare quello che è successo il 12 marzo. La città doveva capire quali erano stati i passaggi, perché si è arrivati a quel momento e soprattutto perché quel giorno ha avuto quell'esito. E allora ho sentito il bisogno di dover rivolgermi ai propri cittadini per fare chiarezza. E devo dire che nello stesso tempo è servito a un'altra cosa, è servito a tirare fuori la grinta, a tirare fuori la rabbia, perché la delusione che ho provato quel giorno e che era, penso, percepibile, visibile, si è trasformata piano piano in una voglia di rivalsa. Soprattutto quando mi sono arrivati tantissimi messaggi di sostegno, di incitazione proprio ad andare avanti. L'ha delusa il PD? I consiglieri del PD sono arrivati in consiglio comunale con un mandato da parte del partito a votare la sfiducia. Inaccettabile che un partito della sinistra possa votare una mozione che è stata firmata da componenti dell'estrema destra. Quindi mi ha fatto veramente tanto piacere, grande piacere, che i due consiglieri del Partito Democratico non abbiano rispettato quei diktat. Adesso chiedo a tutti quelli che già hanno visto il percorso che abbiamo fatto, hanno visto qual è stata la difficoltà incontrata in consiglio comunale con due soli soldati su 30 che per effettivamente dare forza ulteriore e dare un taglionetto a un vecchio modo di fare politica c'è bisogno di lottare insieme. E io lancio quest'appello per fiancarmi con le liste. Grazie 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 Grazie